Sette figlioli, sette, sette fratelli, a chi li do? L'ultimo, i sette fratelli. Il mio fratello, Gizze, era scuso. L'avevano chiamato Paris. Vedermi tornare a casa tutte le sere con un occhio nero. Una rabbia, una disperazione. Forse tutte e due mescolate insieme. E poi, venne l'estate. La terribile estate del 2016. Il tentativo di colpe militare. La repressione. Lo stato di allerta permanente. Il coprifuoco. Centinaia di persone messe in carcere senza un processo. Artisti, intellettuali, scrittori. Il CHICA Aggiuderno, lo stato di segnale. Grazie a tutti.